Dieci anni fa, io avevo dieci anni meno, avevo trent'anni, e mi misi in testa di raccontare la storia di un uomo che si chiamava Luigi Malabrocca, che era un uomo che era diventato famoso perché arrivava ultimo al Giro d'Italia, e arrivando ultimo al Giro d'Italia, paradossalmente faceva più soldi grazie ai regali della gente, di quanti ne facesse quello che arrivava terzo o quarto, e la gente, e qualcuno, probabilmente qualche giornalista, l'aveva soprannominato la maglia nera, perché il primo aveva la maglia rosa, l'ultimo aveva la maglia nera. Io quando, prima di conoscere Luigi Malabrocca, avevo fatto una ricerca su di lui, sui giornali dell'epoca, e mi aveva fatto un'idea tutta mia, un'idea super romantica, un'idea che aveva a che fare con l'uomo che si prendeva sulle sue spalle il peso degli ultimi e lo portava alla ribalta, all'altezza di quelli che arrivavano primi, parliamo di gente come Fausto Coppi e di Gino Bartali. In realtà non era così, in realtà la mia era un'idea super romantica, ma quando lo incontrai capì che lui era un uomo che aveva una famiglia e che faceva quel mestiere lì, faceva il ciclista. Aveva vinto diverse gare e queste sono le prime cose che lui mi ha fatto vedere quando l'ho incontrato, e poi mi ha raccontato qual era stato quel suo piccolo colpo di genio, cioè capire che l'ultimo in quegli anni poteva avere l'affetto della gente, quasi quanto quelli che arrivavano primi. Venerdì 3 febbraio del 2017 per me si chiude un cerchio, perché con lo spettacolo, con la maglia nera, arriviamo ad Alba, che è la città in cui tutto è cominciato, perché dieci anni fa io andavo ad Alba, andavo da Paola Farinetti a Produzioni Fuori Via e le dicevo Paola avrei un'idea per uno spettacolo, ho conosciuto questa persona e lei mi disse facciamolo. Dal 2006 ad oggi lo spettacolo è stato in giro e l'abbiamo fatto dappertutto, in teatri enormi, in luoghi minuscoli per dieci ciclisti o in festival estivi davanti a 800 persone in piazza. Torniamo ad Alba, venerdì 3 febbraio del 2017 e spero che ci siate, perché potrebbe essere un momento molto molto particolare. Ci vediamo lì.